musica 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 viva i corvi in culo oric fate buoni le parole ah si è entrato dalla corte facciamo la foto facciamo la foto qui davanti qui davanti a tutti e ci mettiamo tipo a prezza ah te fuori no basta foto basta foto no ci mettiamo è stato a sparca non si vede lui concentrato il tiro guardate qui guardate qui guardate qui poi ah l'avete presa? vieni qua c'è da lasciare qui c'è da lasciare qui dove è l'altra mi hai fatto naperlo questo non ne ho idea no no però c'era lì c'era lì del coso è nella campagna non saltate giù eh no c'è il meleno raga aspettate venite qui non c'è dobbiamo metterne una portiamoci avanti col lavoro meglio se la prendete aspetta che sono qui la prendo la prendo la prendo guarda un attimo prendo io dai che ritiro l'arco in faccia esatto ok ci sono dai arriviamo no 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 ok vai 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 è l'ultima l'ultima come sento ora eh eh grazie cazza stavo tripulando da dio ci siete eh buona 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 veloce veloce via ciao vai ciao cazza merda cazzotti vero lei dei corrotti cazzotti vieni cazzotti venga venga qua senti che spara stronzata preparate qui per tutto eh buiaka x19 buiaka 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 e ora oh 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 mi sembra che dobbiamo entrare là dentro aspetta eh arriva gente arriva gente poco sulla magliarda destra poco sulla magliarda destra vi faccio la bolla vi faccio la bolla si 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 concentrate il tiro sulla magliarda destra concentrate il tiro sulla magliarda senza scuti quella centrale ok resta stare un'altra qui a sinistra no tienilo vabbè dai no va bene tanto si si rifà l'arco attento a tutti per stare lì eh eh altra gente altra gente ok buono buono aspetta e ora nel portale immagino dite? aspetta proviamo ad avvicinarti vediamo se moriamo tutti vai Tarkan ma che storia ci sono i drop eroici anche c'è i drop eroici anche c'è i drop eroici c'è i drop eroici e' posticino e' posto bianco e' la prima cassa? no la cassa fa male raga la cassa frammento putrescente già già il nome mi piace come paradise guarda che cattroia paradise ha trovato l'arma esotica della vita frammento fuci senza ci arrivo che cazzo c'è da andare? qual'è paradise? qual'è? non lo so aspetta mi metto le rosse no non è quella impossibile mi metto le rosse è sparito attento che prima o poi quello che mi ha ucciso mi è passato da sopra quindi devi saltare a cazzo stai attaccato al mio culo ok adesso devo andare da due parti aspetta lì bisogna saltare sopra questa qua? guardala qui dove? questa qui Giacomo ah la vedo si ma io col doppio non ci arrivo eh che stronzata eh mi spiazza di mettere il triple eh devo mettere le ossa devo mettere le ossa io l'ho messa sono morto mi sa che stronzata però questa sotto ah no bisogna andare avanti con quella eh che cazzo che cazzate ah no non e' quella no no guarda ma dov'è bisogna arrivare ma dove cazzo siamo noi? è bella domanda dove cazzo dobbiamo arrivare guardate la sopra la sopra guarda la vedi la ah si quella lì è l'ultima la sopra allora vieni qua hai messo il triplo salto? si ok questa qui dove vi stai? grande sei arrivato oh oh pit emilio le parole ci vuol dire che voi per un'ora cazzo eh te le hai le ossa emilio mettiti ossa e triplo salto ale caga me cazzo eh guidate gazzotti epics l'ho fatta tutta come ossa li guido io li guido io li guido io li guido io adesso me la faccio passare sopra questa qua e salto in quella dopo esatto esatto bravo dodo nuora anche io l'altro lato no non quell'altra parte li vail cazzo è bravo musica d percatta evics ha disegnato un arcobaleno e adesما gal legale perche, aspetta che devo cambiare le perche beh bravo i picchi ballo di gruppo ballo di gruppo allora adesso possiamo girare l'altra parte c'è un altro altro sepolcro tipo quello su cui siamo partiti in pratica ok? e ci porta la prossima zona però ci sono anche tipo un cavaliere giallo quindi possiamo imbazzare un po' di gente qui e c'è un accolito che ci aspetta e Epix adesso crepano tutti, sventura dei disarmati come quella volta su Torino non vedo le piastre però le viste, le viste, urlatore, urlatore utilizziamo l'urlatore occhio che non appaia qualcosa anche di qua e Tarkhan eh sto controllando tranquillo, mollate che adesso saliamo sul colo Epix dai si è in altra parte, difetto questa qua vai vai e un engram ok dovrebbe... provate salite, andate su tutti andate su tutti andate su tutti ok ok eh oh è carino però fino a... si mi sembra molto piacendo devo dire abbastanza rilassante eh mi sa che la sgas arriva dopo mi sa eh ci sono tre boss probabilmente quindi sperando ripresa ok tutti di qua perchè volevo arrivare con classe quelle belle riprese eeeh gianfature merda 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 oh mio dio sono morto non è vero ero abituato a scendere no c'ho le chiappe di Epix in faccia aia ma ti uccide oh dove sono io guarda guarda il capo ahahahahah mi ha ucciso vieni a lui vieni giù no non ci credo sono un cazzo no è oh che cagato sono bloccato aspetta ti colpisco io che ce la fai dai che ci stiamo muovendo in avanti sparatelo sparatelo dai sparatelo di qua sparatelo di qua no ragazzi che troia dobbiamo dallo spettro dice che segno della testitura segno della dista eh questa cosa non mi piace appariranno arriveranno arriveranno vedrai o da starci sopra fino a un punto che si apre con la porta si è già aperta anche se si è baggata ah no ecco ok buona 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 ma cos'è che cazzo finale dio un orco? eh quel cazzo è quel coso orco ragazzi guardate sui bordi guardate sui bordi è vero è vero ah eccoli qui eccoli qui i totem sono lì totem una destra e una sinistra c'è tutta un'intera zona giù di lì eh se guardate mi sembra che c'è un altro anche davanti ragazzi c'è un lucchetto c'è un lucchetto ah fermo distribuiamoci allora tre a destra e tre a sinistra io vado da destra con undoing no uno sulla piastra uno uno due sulla piastra ma no ma non serve nulla se no i totem sono partiti ma infatti si facciano due 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 allora allora io vado da destra per vedere cosa c'era i gazzotti epics stati è stato al centro ah ok eccoli il totem eccolo il totem segno della tessitrice eccolo eccolo segno della disfattrice che cazzo è? eh non lo so allora io sono al totem e ho tipo una bolla attorno qualcuno tenga la piastra ho una bolla attorno anche io mi sa che muoio mi sa che quando cade il coso muoio sapete? per caso puoi raccogliermelo puoi raccogliermelo secondo me dobbiamo darci il cambio perchè io mi sa che sto per morire ce l'ho anzi io adesso vediamo capito? guardate che ora muoio ragazzi fate pure con comodo eh potere della cazzo da morte uomo voi siete sulla piastra vai fai pure con comodo eh qua non arriva nessuno cosa succede? Emilia cavalliere sopra allora non mi si rigenerano gli scudi no mi calano gli scudi mi calano gli scudi allora allora ho capito ho capito ho capito di la cosa succede? I'm doing di la quando scade il segno cosa succede? niente niente siamo vivi potere della cazza morte per 10 totem dell'ognito eccole lì sta clonando la vita sta clonando la vita vero? o siete morti direttamente? allora stanno un po' il micro no per il totem per il totem ora vi spiego in pratica bisogna dare un po' il micro è parecchio alto eh niente ascoltatemi un attimo allora bisogna darsi il cambio ok? in pratica c'è questo segno che c'è lì non sfateli questo segno in pratica quando scade si muore in pratica uno entra aspetta poi esce entra subito un altro capito? così il segno si rinnova capito? Emilia veniva quamprego e vieni 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 dato in vino vieni 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 vieni